Ci sta l'Arlecchino con il Sampoglione dietro, il Dottorazzo per Arlecchino con il nuovo Podestà dei Marti che mi sembra una persona piuttosto eminente a vederla così, e dietro ecco qui sono i due lacchè con la corona e con lo scettro e tutta la serie degli Arlecchini. Oh buongiorno, un applauso al nuovo Podestà dei Marti, un applauso, allora il Podestà dei Marti di quest'anno è una persona molto importante, è un ingegnere, l'ingegnere Cesare Pietro Rini